Musica Cari amici, cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con i nostri speciali. L'estate sta entrando nel vivo e fortunatamente stanno tornando anche tanti eventi, tante manifestazioni sul nostro territorio, sul territorio vittoriese e come sapete la Tenda TV vuole dare ampio spazio a quanto accade, anche perché possiamo dirlo è un segnale incontrovertibile di ripartenza e quindi la rinascita, il ritorno di eventi, manifestazioni pubbliche ci fa ben sperare, possiamo dirlo, per il futuro. Siamo qui per parlarvi dell'antica Fiera di Santo Svaldo. Lo scorso anno la Fiera di Santo Svaldo che ha tradizionalmente trovato spazio in quel di Ceneda non ha avuto luogo, ovviamente per le note vicende legate al Covid, ma quest'anno il programma è un programma molto ricco e quindi io saluto subito i nostri ospiti che sono venuti qui nel nostro studio, quindi do il benvenuto a, è stato qui tante volte insieme a noi, D'Aldo Bianchi, presidente dell'Associazione Zeneda, ben ritrovato. Grazie. E poi abbiamo Paolo Vello, vicepresidente regionale dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria. Buongiorno. Eccoci qui, con Vello ci ritroviamo dopo qualche tempo perché lo ricorderete nel 2018 Vittorio Veneto ha ospitato il raduno nazionale dell'Arma di Cavalleria e quindi ci ricordiamo le vostre performance sia all'area Fenderl sia a lungo Viale della Vittoria. Belle giornate, speriamo che possano tornare anche questo, che possa tornare questo tipo di eventi con un numero considerevole, una partecipazione importante da parte della popolazione. Partirei subito con Aldo Bianchi. Allora lo dicevo, dopo un anno di stop per la pandemia, ma due anni di stop perché, se non vado errato, l'anno precedente era stato il maltempo invece a mettervi i bastoni tra le ruote, per così dire. Questa volta non ci sono più scuse e si parte. Allora, iniziamo a raccontare come avrà luogo questa Fiera di Santo Svaldo, come dicevo prima, in un periodo un po' difficile sotto molteplici punti di vista. Allora, intanto ti ringrazio Campo dell'Orto perché fai un servizio veramente eccezionale e per le associazioni storiche, culturali come noi abbiamo estremamente bisogno del tuo servizio naturalmente e di questo sono sempre grato e saremo sempre grati tutti, in particolare Ceneda naturalmente. Grazie. Beh, quest'anno devo dire con una certa emozione, ho fatto un po' di fatica all'inizio perché volevamo fare qualcosa di diverso e siamo riusciti a fare qualcosa di diverso con l'aiuto dell'arma della Cavalleria Nazionale naturalmente e qui ne abbiamo il Vice Presidente regionale che magari commenterà poi la sua programmazione, ma insieme per fare questa festa, questa mostra del cavallo che per la prima volta a Ceneda si mette in luogo naturalmente e quindi con varie esibizioni, c'è circa un bel numero di animali e ci sono delle manifestazioni particolari molto interessanti, belle e culturali perché si parte dalla storia e la conoscenza dell'animale con tutta la sua formazione, con le selle tradizionali, con tutto l'insieme che serve per poter salire sopra un cavallo, ecco, in semplicità delle cose. Allora, parlando del cavallo, è un animale particolare, vicino all'uomo, intelligente e noi siamo felici di portare, ripeto, per la prima volta a Ceneda una considerazione importante, non è una fiera, ma è una dimostrazione di come si può vivere accanto a un cavallo, come si può imparare, come lui ci insegna a stare insieme al cavallo, è una forma importantissima per noi e anche per la città, credo, non solo per Ceneda. Andiamo nel luogo tradizionale, al Parco Papadopoli, naturalmente sotto la fresca alberatura, ormai centenaria e quindi penso che la cosa sia veramente interessante. Non ci sono tante cose, c'è un po' di bancarelle, ci sono vari appuntamenti, che magari diciamo pian piano, e poi alcune cose per passare un po' di tempo in lieto, cioè con tranquillità, con serenità, lì al Parco si trova di tutto in quel giorno, particolarmente l'uno, naturalmente di domenica, ecco per dire. Mentre invece abbiamo fatto una scelta che l'associazione, perché è storica, perché ama le tradizioni e perché naturalmente ama il suo territorio, abbiamo fatto una scelta di fare un convegno importante, ma veramente importante, direi, mi esprimo magari con un certo entusiasmo, però è a livello nazionale e questo succederà nel loggione grande sopra del Museo della Battaglia, naturalmente, ed è un convegno sulle viti resistenti, che è la nuova iniziativa che parte dalla regione, naturalmente, perché abbiamo anche i relatori che vengono dalla regione, ma che dà un senso all'ambiente, una cura, una particolarità. Non c'è solo Prosecco, ma i vigneti resistenti stanno prendendo piede, perché hanno una capacità particolare e sembra che sia una... Noi come associazione abbiamo voluto dare un test a questa cosa, abbiamo invitato parecchi persone, particolarmente i relatori che sono di interessante livello, di un buon spessore naturalmente e questo fa sì che per logica diventi anche il convegno uno spessore a livello nazionale, insomma. Anche questo è una piccola ciliegina che portiamo a Vittorio, in particolarmente a Sena, perché non è mai successo questo. Un convegno di questo tipo nella città di Vittorio non è mai stata fatta, proprio specifica. Fermo per un istante Aldo Bianchi che ci ha già dato moltissimi input riguardo al programma, ma intanto, allora, io direi, l'antica Fiera di Santo Svaldo parte il 24, 24, 29, 30, luglio e primo agosto 2021, in questa estate. Ci ha raccontato dei cavalli, adesso io do subito la parola anche a Vello per capire, insomma, che cosa andranno a trovare i vittoriesi che vorranno appunto prendere parte alle diverse iniziative e poi all'interno di questo focus sui cavalli. All'interno di questo ampio programma c'è anche quello di cui ci parlava Bianchi pochi istanti fa, cioè un convegno, possiamo chiamarlo così, dedicato ai vitigni resistenti. Però sono due argomenti un po' diversi. Allora, partiamo dai cavalli che è il tema che mi solletica di più in questo momento e quindi io chiederei a Vello, come siete stati coinvolti dall'Associazione Zeneda per questa Fiera di Santo Svaldo. Beh, anche da parte mia sicuramente inizierei con i ringraziamenti alla tenda TV che sempre ci ospita e appunto, come diceva lei prima, ci conosciamo già da qualche anno. Ringrazio senz'altro l'Associazione Zeneda nella persona di Aldo Bianchi che appunto è stato lui la persona che ci ha contattati e ci ha coinvolti in questa manifestazione. Però un ringraziamento particolare, ricordando proprio gli eventi di tre anni fa, vorrei farlo ai cenedesi perché ci hanno accolti con un entusiasmo, con una passione che ancora oggi non solo all'interno dell'Associazione Veneta ma anche a Roma se ne parla, proprio perché è stato un evento veramente importante ma veramente caloroso e di questo sono grato io e tutti anche i superiori. Questo ovviamente non può che farci piacere. Veniamo al connubio tra la cavalleria e l'antica fiera di Santo Svallo. Ecco, allora essendo quest'anno appunto l'antica fiera è incentrata sul cavallo, sull'animale che per noi è più di un animale soprattutto per chi nel passato ha combattuto in sella il cavallo e ci siamo credo ben inseriti perché è proprio l'argomento principe della cavalleria, infatti il nome deriva. Una cosa importante è anche il fatto che tre anni fa abbiamo fatto il centenario della vittoria e della fine della guerra. Per noi quest'anno ricorre il centenario della nascita dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, nata appunto nel 1921 a Milano, quindi per noi è un altro centenario sicuramente meno importante, meno diciamo... Però è una ricorrenza che è giusto ricordare. Esatto, però senz'altro che è giusto ricordare e ripeto a noi fa molto piacere che lo possiamo fare nella città di Vittorio Veneto. I nostri eventi iniziano appunto sabato 24 luglio con la vernice della mostra proprio sulla cavalleria e qui mi corre l'obbligo anche di ringraziare le sezioni, i presidenti e i loro collaboratori, le sezioni di Conegliano e di Pordenone che si sono fatte carico di tutto quello che diciamo dell'organizzazione in sé e sicuramente è un grande merito loro e sul quale l'Associazione diciamo regionale può far conto. Passiamo poi al giovedì 29 luglio in cui avremo ospite un ufficiale di cavalleria in servizio il quale tratterà proprio l'utilizzo dei cavalli nel corso della grande guerra. Questo è il titolo e che credo si integri al meglio nella festa di San Gottosvaldo di quest'anno. Quindi una conferenza che avrà luogo a partire dalle ore 18 del 29 luglio presso la loggia del Museo della Battaglia quindi all'aperto. Esatto. Successivamente il sabato avremo alle 17.30 una presentazione diciamo ufficiale di quelli che sono i nostri interventi e il clou di tutti gli eventi è sempre il sabato alle ore 18 perché siamo riusciti ad avere con noi il generale di corpo armata Paolo Gerometta che tra l'altro è il nostro presidente vicario è una persona di assoluto spessore infatti è stato lui che ha fatto il discorso ufficiale nel corso del centenario ma è una persona che ha credenziali veramente di tutto rispetto perché a parte lo conosco personalmente ma il papà era di cavalleria lo zio era di cavalleria il fratello era un ufficiale di cavalleria. Quindi i titoli li a tutti insomma. Esatto e lui stesso tutta la sua vita militare l'ha fatta in cavalleria e l'argomento sarà proprio la celebrazione dei cent'anni della nostra associazione quindi è un evento importante e diciamo relazionato da una persona altrettanto importante. Questo sabato 31 luglio sempre presso la loggia del museo della battaglia alle 17.30. Esatto. Poi la parte diciamo conclusiva quella più chiamiamola spettacolare anche per la popolazione insomma per gli spettatori alle ore 10 inizieremo con una manifestazione una sfilata di cavalli noi ma anche altre persone di cui parlerà senz'altro Bianchi e avremo delle quattro binomi a cavallo in uniforme dei lanceri di Firenze che se ricordate sono i primi entrati in Vittorio Veneto assieme ai bersaglieri proprio a Ceneda tra l'altro. Esatto. Assieme ai bersaglieri ciclisti ci saranno anche un paio di comparse loro quindi un altro fatto importante. Alle ore 11.30 dopo la Santa Messa ci sarà una benedizione di tutti i cavalli presenti e quindi nel pomeriggio verso le 17.30 avremo una sfilata di questi cavalli, avremo anche una spiegazione di quelle che sono le uniformi storiche dei cavalieri presenti e quindi entreremo un po' più nel dettaglio anche ricordando ancora una volta le fasi salienti delle ultime ore diciamo della Grande Guerra e l'entrata appunto dei lanceri di Firenze in Vittorio Veneto. Quindi possiamo già dire che nella giornata di domenica 1 agosto insomma ce n'è per tutti i gusti. Vello ci ha raccontato un po' lo svolgersi diciamo di queste giornate. Si parte appunto con la mostra il 24 luglio, poi ancora giovedì 29, sabato 31 e domenica 1 per quello che riguarda l'argomento cavalleria. Però giustamente ci diceva poc'anzi bianchi per venerdì 30 luglio alle ore 19 avete organizzato un focus possiamo dire così sui vitigni resistenti, il futuro della viticoltura. Insomma non c'è bisogno che lo dica io, il vino, il prosecco eccetera eccetera la fa la padrone nelle nostre colline, nel nostro territorio. C'è stato il riconoscimento dell'UNESCO quindi tema quanto mai attuale. Però perché appunto avete deciso di focalizzarvi proprio su questa tematica? Come ci diceva anche lei prima, cioè andando a richiamare anche dei nomi di tutto rispetto. Certo perché, anzi permettemi direttore di dire due cose. Sono emozionato a quanto ha detto il vicepresidente regionale della cavalleria sai perché esenzialmente e vorrei che qui fosse tutta Ceneda e comunque che tutta Vittorio a visitare la mostra. La mostra che al giorno 24 alle 11.30 ci sarà l'inaugurazione naturalmente sabato. Nella Rotonda Papadopoli. Ecco volevo dirti questo che proprio alla Rotonda Papadopoli che racconta la storia di Vittorio, la Rotonda, e là è il luogo ideale per noi e siamo stati fortunati col pensiero che hanno accettato perché è una mostra veramente particolare di grande valore storico. Per tornare ai vigneti resistenti ti ringrazio ancora per questa richiamata perché è con grande entusiasmo che noi quando ci abbiamo pensato, prima ci siamo consultati con i vari altri persone che avevano già un tipo di esperienza superiore perché è una particolarità del territorio. Questi vigneti saranno il futuro sicuramente a detta dei professionisti. È una cosa totalmente diversa, sempre viti sono, però devono essere curate, devono essere trattate, ma salva la cosa più importante che è salvaguardia del territorio. Quindi è un servizio che facciamo per il territorio ma anche per noi cittadini in cui l'ambiente diventa più sano, diventa particolare. Questo è principio anche come fondazione di associazione perché credo che questo sia il primo evento, devo ripetermi perché sono felice veramente e scusatemi se mi ripeto, però il mio tale entusiasmo di rivedere e di fare, di aver organizzato con un po' di fatica perché ci vuole anche uno studio intorno e a trovare anche gli amici che ti aiutano per fare un convegno così importante. È determinante la situazione locale per dare una svolta. Noi crediamo in questo perché il territorio ne ha di bisogno e quindi spero che quel giorno sulla sala principale del museo, la sala civica naturalmente, ci sia spazio per tutti i nostri ospiti. Questo è fondamentale. Però se mi lasci aggiungere già che sono in tema del territorio, è un'altra cosa, un'altra situazione particolare. Terra Bona da Olivi. Che cosa significa? Abbiamo fatto un sondaggio proprio sempre per lo studio del territorio, per le nostre tradizioni che sono fondamentali per la nostra mentalità come associazione. Daremo dei premi a circa 40 olivicoltori che sono nelle nostre colline cenedesi, ma non perché Vittorio è la città dell'olio, ma perché raccogliamo un invito particolare ogni volta che andiamo a fare una passeggiata nelle nostre colline. Troviamo non cespugli inutili, ma tanti olivi, ma tanti olivi. E allora facciamo una festa e facciamo anche, diciamo, delle degustazioni e ci siamo permessi di invitare circa una quarantina di appassionati, perché non hanno guadagno, ma comunque curano il territorio e portano il suo beneficio con la raccolta dell'olio. Beh, possiamo dire che appunto gli olivi sono proprio una caratteristica anche dei colli di Ceneda, ce ne sono tantissimi e vanno ad impreziosire e ad abbellire proprio anche il paesaggio, come giustamente ci diceva lei. Questa cerimonia, diciamo così, che voi l'avete chiamata come cerimonia di riconoscenza per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, avrà luogo domenica 1 agosto alle 11 sempre al Parco Papadopoli. Papadopoli con la consegna delle varie premiazioni, con l'euro parlamentare Darè, Gian Antonio Darè e il sindaco naturalmente presenti. Ecco, questo per quello che riguarda questi aspetti. Allora, ci rendiamo conto che c'è tanta carne al fuoco, quindi magari qualche appuntamento può essere sfuggito. Tra poco magari andrò a fare un rapido riassunto. Prima di chiudere, io tornerei un attimo da Avello e allora, ce lo ricordiamo, nel 2018 tanta gente, tante famiglie, tanti bambini hanno affollato le vie, le strade di Vittorio Veneto ammaliati da quelli che non sono solo degli animali, come giustamente ci diceva anche lei poc'anzi, ma voi instaurate proprio un rapporto tutto particolare insomma con i vostri cavalli. E quindi l'invito, anche questa volta, è a tornare ad uscire, adesso che si può, e passare magari una giornata, oltre agli appuntamenti, quelli che possono riguardare un po' di più gli appassionati o comunque che possono essere un po' più di nicchia, ma soprattutto nella giornata di domenica, insomma, invitiamo le famiglie ad uscire e ad entrare in contatto con questi animali. Giusto, Avello? Senz'altro, io mi auguro che anche siano tutte giornate con condizioni meteo ottimali, in modo intanto da premiare chi si è impegnato particolarmente, ma anche per la giusta soddisfazione della cittadinanza. Come diceva lei, se posso, due parole. Il cavallo per il cavaliere, soprattutto quando era impegnato in guerra, non c'era differenza tra cavallo e il cavaliere, perché proprio la storia ci insegna che ci sono stati cavalieri che hanno salvato i cavalli, ma anche il contrario, anche se sembra improbabile. Sembra impossibile. Però questa è veramente la storia. E per concludere e per dare ancora una volta la giusta ricompensa alla cittadinanza vittoriese, vorrei annunciare che noi ci stiamo veramente dando affare per costituire anche a Vittorio Veneto una sezione di cavalleria. Ne abbiamo una a Conegliano molto operativa, a Pordenone, anche se siamo nel Friuli, altrettanto in gamba è operativa e speriamo al più presto di riuscire a comporre anche una sezione di cavalleria a Vittorio Veneto, che sarebbe il massimo per tutto quello che sappiamo. Beh, noi ce lo auguriamo, ve lo auguriamo e quindi magari venite poi a presentarla, ovviamente, qui da noi. Mentre a Bianchi, in chiusura, provo io a riassumere un po' tutto? Ci provo? Ecco, eventuali errori. Allora, l'Antica Fiera di Santo Svaldo si apre il 24 luglio alle 11.30 con la mostra storica sulla cavalleria presso l'Aula Magna della Rotonda di Villa Papadopoli. Continua poi giovedì 29 luglio a partire dalle 18 con la conferenza storica sulla cavalleria. tema, l'utilizzo dei cavalli nel corso della Grande Guerra presso la loggia del Museo della Battaglia. Facciamo una pausa sull'aspetto cavalleria. Venerdì 30 c'è il convegno sui vitigni resistenti, il futuro della viticoltura. Questa volta saranno nell'Aula Civica, tutti i relatori parleranno dall'Aula Civica del Museo della Battaglia, tra le 19 e le 20 e 30. Questa volta bisogna prenotarsi, giusto, per l'accesso, perché sapete, ovviamente, per le norme anti-Covid, però possiamo anche già preannunciare che ci saranno le nostre telecamere che non manderanno in diretta, ma poi andremo a riproporre all'interno della nostra programmazione questa serata. Torniamo all'ambito cavalleria. Sabato 31 luglio alle 17.30 c'è la presentazione e la manifestazione presso la loggia del Museo della Battaglia. a seguire la conferenza I Cent'anni dell'ANAC, l'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, come ci ricordava Vello Pocanzi, e poi la giornata clou domenica, domenica 1 agosto, l'apertura della manifestazione alle ore 10, inizieranno le prime sfilate a cavallo, alle 10.30 la Santa Messa presso la Cattedrale, alle 11.00 ci saranno gli ulivi, la cerimonia giusto, che riguarda la valorizzazione del territorio, in particolare gli ulivi presso il Parco Papadopoli, alle 11.30 la benedizione di cavalli e cavalieri presso la gradinata di Parco Papadopoli, seguirà la sfilata, e nel pomeriggio alle 17.30 ancora la sfilata e la rievocazione di cui ci parlava Vello Pocanzi. Bianchi, ho detto tutto? Non solo sfilate, ma anche spettacoli continuativi, perché c'è un'organizzazione abbastanza importante a livello nazionale che ci presta per fare dei vari spettacoli, specialmente per bambini, per famiglie, insomma naturalmente. E poi ci diceva ci saranno anche delle bancarelle, ci sarà la fiera, insomma. Sì, la mostra del libro, ci sono una serie di situazioni, sono quattro mostre, quindi compresa la mostra di cavalleria e la mostra del libro, che è un atto culturale importante, si trova sempre alla rotonda naturalmente, e poi le varie mostre che ci sono nel territorio, nel parco, insomma. Questo è il riassunto della manifestazione, ovviamente in giro troverete anche i volantini che vanno ad illustrarvi nel dettaglio il tutto. Bianchi, perché in queste giornate bisogna non mancare a Ceneda? Beh, bellissima domanda, perché? Perché prima di tutto siamo a Ceneda. Ceneda è la storia che mette insieme una città come Vittorio Veneto, però è fondata nelle tradizioni, e c'è qualcosa di interessante, di forte nella storia di Ceneda, che più si legge, più si va a capirla, più ci si innamora naturalmente. Quindi il luogo è meraviglioso, perché è il Parco Papadopoli, che è in mezzo al verde più di così, e poi credo che Ceneda meriti questo momento particolare. È un momento che, ripeto, con i cavalli non si è mai vista, e quindi è un momento particolare, di grande entusiasmo, insomma. E questo Ceneda lo merita. Ceneda lo merita, e speriamo anche che il tempo questa volta sia dalla vostra parte. Ecco, tocchiamo ferro, perché insomma è giusto che tutte le manifestazioni possano avere luogo nei luoghi consoni, anche se ricordiamo che ovviamente tutto il programma che riguarda la loggia e il museo della battaglia, insomma, non ha problemi di, diciamo, siete al coperto. Ecco. Allora, io ringrazio per essere stati qui in studio, Aldo Bianchi, presidente dell'Associazione Ceneda, grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi. E grazie a Paolo Vello, vicepresidente regionale dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, per essere tornato qui, appunto, alla tenda TV. Con piacere, appunto, le porte sono sempre aperte, qualora ci fossero delle iniziative anche particolari da, così, promuovere e raccontare all'interno del nostro territorio. Sono io a ringraziare voi, appunto, per l'accoglienza e per la professionalità con cui vengono svolti questi eventi. Sempre troppo buoni e noi ogni tanto riproponiamo sulla tenda TV le immagini dei raduni famosi del 2018. Grazie ancora una volta agli ospiti, grazie a tutti voi per averci seguito. Appuntamento alla prossima.